Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di vigilia ovviamente a Sampdoria Juventus e andiamo ad analizzare e a commentare insieme le parole di Massimiliano Allegri nella solita conferenza stampa di presentazione alla partita attenzione perché ci sono delle novità che vanno a coinvolgere diversi giocatori che erano infortunati che recuperano per la partita con la Sampdoria ma ancora più importante ci sono altri giocatori che erano fuori e che potrebbero recuperare per mercoledì col Villareal questa mi sembra probabilmente la notizia migliore in assoluto adesso andiamo a fare la disamina di tutto per capire se effettivamente questi giocatori saranno convocabili con la Sampdoria o col Villareal vi invito a scaricare OneFootball app sponsor di questo canale il link per scaricarlo ovviamente qui sotto in descrizione oppure con la fotocamera del vostro cellulare bam inquadrate questo QR code e vi farà partire in automatico il download fatelo perché ovviamente per prepararci a Sampdoria Juventus questo è il modo migliore per quando io non sono online e quando non faccio video Allegri inizia la conferenza stampa in una maniera abbastanza tesa dicendo una frase banale questo è il momento decisivo della stagione mi si è fermato il cuore perché di solito Allegri è uno di quelli che ma no vediamo non è decisiva è il momento decisivo della stagione anche se mancano ancora due mesi dice prima della sosta c'è una settimana bella e intensa poi dice beh speriamo che possa essere bella vediamo se sarà effettivamente piacevole e poi aumenta un po' la tensione dicendo la Sampdoria con Giampaolo da quando è tornato Giampaolo nelle due gare casalinghe ha fatto sei gol due vittorie e ne ha subiti zero stiamo parlando del 4-0 col Sassuolo e il 2-0 contro l'Empoli quindi veramente Allegri la tocca piano inizia la conferenza e sta attaccando la piano poi vecchia Volpe no? non va a parlare delle sconfitte con Milan, Atalanta l'ultima che lo dice no perché quella era in trasferta ti parla della Sampdoria in casa perché giustamente noi domani andiamo a giocare a Genova quindi è una gara che è molto pericolosa e questo probabilmente è il segnale di Allegri per iniziare a far girare i giri del motore nella squadra è cambiata radicalmente la mossa di comunicazione di Massimiliano Allegri fino a questo momento aveva sempre detto è lungo vediamo c'è tempo qui e là adesso invece Allegri mette tutti sugli attenti Allegri ha cambiato completamente in questa conferenza stampa il suo approccio rispetto a tutte quelle altre dove continuano a dire va bene vediamo no adesso si entra per Massimiliano Allegri nel momento piuttosto della stagione e tutta la squadra deve esserne consapevole perché tutto quello che d'ora in avanti va a sbagliare è finita non si torna più indietro e Allegri dirà un'altra cosa molto importante dopo e andremo ad analizzarla questa cosa veramente mi ha colpito perché Allegri è sempre un maestro nel tenere bassi i toni, i ritmi, la tensione invece adesso ha messo tutti sulla graticola tutti in fila e ha detto ragazzi è adesso eh non è domani non è fra un mese è adesso è questa settimana qua loro hanno bisogno di punti per la salvezza noi di punti per la Champions dice rientrano De Sciglio Sandro e Quadrado che saranno già convocati e potranno giocare con la Sampdoria Chiellini invece potrebbe essere disponibile per mercoledì poi dice quando arriva la Champions un po' come il mio arrivano tutti perché poi anche Bonucci e Dybala potrebbero essere disponibili per mercoledì su Dybala poi faremo un ragionamento più approfondito perché Massimiliano Allegri si è soffermato a parlare anche no di Paolo Dybala domani Danilo gioca a titolare lo dà per certo a Allegri centesima partita con la Juventus per Danilo molto bene sono contento invece tra De Sciglio e Alexandro quindi verosimilmente il terzino sinistro non ho ancora deciso perché vi dico terzino sinistro perché Danilo giocherà a destra al 100% a sinistra dovrebbe giocare quello perché poi Allegri ha fatto un altro ballottaggio che riguarda Quadrado riguarda l'attacco e va a darci un po' l'indicazione di quello che sarà il modulo domani della Juventus l'obiettivo dice Allegri è entrare nelle prime quattro non arrivare quarti che sia quarto terzo o secondo non cambia è qua Allegri vecchia volpe vecchio cuore Massimiliano Allegri il vero bugiardo della storia della Juventus non ti dice primo posto quello te lo lascia fuori perché dice che questi hanno accumulato così tanti punti che la Juventus non potrà più prenderli però si può arrivare terzi e secondi non primi eh primi no ma terzi e secondi sì capite che questo discorso fa acqua da tutte le parti sul livello logico e matematico e questo va un po' a confermare anche il fatto che sì Massimiliano Allegri in uno squadetto ci crede come e sta lavorando per tenere insieme la squadra lui dice per il rush finale degli ultimi mesi perché dopo la sosta dovremo recuperare tutti a parte ovviamente i lungodegenti quindi attenzione perché questa a me è sembrata una risposta tra le linee clamorosa del senso arrivare terzi si può arrivare secondi si può arrivare primi non lo metto neanche nell'equazione mannaggia te Massimiliano Di Bala l'ho visto meglio dice Massimiliano Allegri mercoledì potrebbe essere a disposizione appunto al parere Bonucci ma vedremo vincere a Genova è sempre complicato dobbiamo rimanere dentro la partita non so se avete visto uno degli ultimi video di Davom parla proprio di questo è andato a riprendere un concetto Allegri che ieri Davom ha sviscerato in maniera perfetta il riferimento a PSG contro Real Madrid quando hanno giocato l'altra sera a Madrid il passaggio del turno ad opera del Real di Carletto e Davom fa un discorso proprio su quella partita lì Allegri parte da quella partita lì e dice esattamente la cosa su cui va a strutturarsi l'intero video di Davom che io sottolineo ieri concordavo con Davom oggi ancora di più e il fatto che Allegri vada a citare questa cosa a me fa molto molto piacere e penso che sia anche un bel riconoscimento nei confronti del contenuto che ieri ha creato Davom e sicuramente avvicinandosi a una partita di Champions e con Allegri che tiene alti toni a differenza di quanto non aveva fatto fino adesso è ancora più importante perché l'unica cosa che conterà mercoledì sarà passare il turno e per passare il turno e lo sappiamo non possiamo aspettarci la Juventus del calcio spumeggiante dobbiamo aspettarci la Juventus che rimane dentro la partita con il Villareal perché sicuramente il Villareal verrà a Torino per farci male per passare il turno perché la Champions League non c'è spazio per i pannoloni sporchi di Popò c'è spazio solamente per quelli che hanno i coglioni grossi così quindi il Villareal sicuramente verrà a Torino per ma noi dovremo rimanere dentro la partita e Allegri te lo dice già con la Sampdoria a Genova sta già alzando il livello Allegri ti sta già dicendo attenzione che la Sampdoria è pericolosissima a Genova vincere a Genova è complicato non sarà per niente facile guarda te lo dicono i dati la Sampdoria in casa è un'altra roba ha fatto 6 gol ne ha subiti 0 è il momento decisivo della stagione ci servono punti Allegri veramente sta tirando sul morale dei giocatori e sta facendo capire che la partita col Villareal inizia domani con la Sampdoria perché vincere a Genova per poi portarti ad affrontare una partita col Villareal con della consapevolezza in più è diverso e quindi attenzione perché si sta caricando l'ambiente si sta caricando l'ambiente Massimiliano Allegri parla di Vlaovic dice che deve migliorare deve essere più pulito nel gioco ha tanta qualità tecnica ma può alzarla e di tanto poi un ragazzo di gran cuore un ragazzo che si mette a disposizione e sa soffrire però può ancora migliorare tanto e questo è il bello di Vlaovic sono d'accordo perché Vlaovic secondo me ha dei margini di miglioramento incredibili e infatti Allegri poi torna a parlare di Real Madrid contro PSG e dice il calcio si gioca sul filo quando tutto sembra andare liscio ecco che arriva l'imprevisto e fa ovviamente riferimento al fatto che comunque il PSG era quasi convinto di passare il turno bisogna imparare ad accettare convivere con l'imprevisto e visto che non abbiamo ancora fatto nulla ancora di Cialegri e ancora a caricare la squadra del senso questo filotto di rincorsa siamo arrivati al quarto posto bene perfetto non siamo ancora in Champions non siamo ancora ai quarti di Champions e non abbiamo ancora vinto nemmeno un trofeo cosa abbiamo fatto fino ad adesso niente va tutto annullato messo in discussione e ricominciare da adesso perché poi i conti si fanno a fine anno e non si andrà a vedere ero secondo dopo quattro giornate ero quarto dopo 27 giornate si andrà a vedere come finirà l'anno e allora Allegri qua lo dice ai suoi giocatori non c'è più tempo è il momento decisivo non abbiamo fatto niente c'è da chiacchierare parlare poco e c'è da fare tanto più zitti si sta meglio è dobbiamo continuare su questa falsa riga perché sennò buttiamo via tutto quello che abbiamo fatto fino adesso chi ha il coraggio di dire che Massimiliano Allegri in questo momento ha gestito male questa conferenza stampa perché secondo me l'ha gestita nella maniera perfetta lo sta veramente facendo capire dicendolo pubblicamente questa cosa dopo aver usato più la carota che il bastone nei mesi scorsi nella gestione della squadra ti fa capire che probabilmente in questo momento sta veramente bacchettando i suoi calciatori e poi parla di Di Bala e anche qua Allegri un po' si sfoga perché dice Paolo Di Bala è un uomo di 29 anni è un professionista devi discutere sul renovo del contratto si gioca si va in campo si fa quello che si deve fare sia Di Bala sia gli altri non è un discorso che dobbiamo mettere becco sono affari di Di Bala affari di Di Bala è la Juventus Di Bala sa che cosa vuole e quindi sarà lui poi a decidere che cosa fare nel suo futuro cercare di capire se accettare o meno la proposta della Juve se ci sarà una proposta della Juve quindi lasciamolo stare Di Bala però Allegri c'è una cosa importante dice testuali parole io ho bisogno di Paolo la squadra ha bisogno di Paolo è un giocatore tecnico che dà qualità e spero di averlo mercoledì ce lo auguriamo tutti perché avere Di Bala nel ritorno col Villareal sicuramente dà una possibilità in più probabilmente a partita in corso perché se Di Bala riuscirà a recuperare non avrà sicuramente 90 minuti nelle gambe non avrà la tenuta per essere un titolare ma mettere dentro Di Bala nel momento clou della partita che sia per recuperare o che sia per addormentare e gestire il risultato come vuole Allegri che sia gestire l'imprevisto come si augura Allegri e come secondo me ancora non siamo squadra non siamo ancora bravi nella gestione dell'imprevisto perché mi pare di capire questo però ci sono stati momenti in stagione in cui l'imprevisto è stato gestito alla grande mi viene su tutte da dire la partita a Roma con la Roma dove recuperiamo una gara incredibile e poi Allegri dice domani e qui non si scappa da questa cosa o gioca a Quadrado o gioca a Ken quindi mi viene da dire 4-3-3 Morata Vlaovic Ken e se non gioca a Ken gioca a Quadrado quindi come terzo d'attacco perché cambia qualcosa da Quadrado a Ken da Quadrado a Ken cambia qualcosa per caratteristiche tecniche e anche proprio per un discorso tattico completamente tattico di preparazione della partita noi lo sappiamo che Massimiliano Allegri va a preparare la partita in base a quegli altri quindi domani si potrebbe vedere il 4-3-3 quindi domani potrebbe esserci il ritorno della fase di non possesso molto aggressiva che avevano visto con l'Elas Verona nel secondo tempo col Sassuolo e con l'Atalanta quella fase di non possesso che ci aveva fatto ben sperare perché l'evento si era cambiata radicalmente e il fatto che stia recuperando anche Paolo Di Bala e che stia tornando anche Paolo Di Bala potrebbe essere un indizio del tipo sta tornando anche lui è quasi pronto e allora il 4-3-3 torna un'ipotesi interessante magari anche contro squadre che non hanno la difesa 3 vediamo devo dire la verità questa conferenza stampa di Allegri mi ha caricato e non poco perché ho veramente visto il cambio di comunicazione che ha avuto Allegri in questi mesi dove mi era sempre sembrato un po' passivo addormentato un po' troppo politicamente corretto con un Allegri che sta iniziando a tirare fuori gli artigli sarà proprio perché è il momento decisivo della stagione e Allegri che inizia una conferenza stampa in maniera così aggressiva sicuramente e sinceramente non me lo aspettavo fatemi sapere un po' che cosa ne pensate pure voi aspetto le vostre considerazioni qui sotto nei commenti come finisce? Siamo dovuti a Juventus ma soprattutto come finisce Juventus-Villa Real aiuto a Juventus-Villa Real a Juventus-Villa Real a Juventus-Villa Real Grazie a tutti